BELLA A TUTTI DA PORK MOZ Eccoci qua come promesso nella mia mega rampita Allora, già potete notare qualcosa Ho apportato qualche modifica Praticamente ho messo un triangolo lì Questa barriera qua Però, siccome avevo detto che c'avevo un problema con l'anticit Ho messo il freno, ma sapete come ho risolto? Col metodo migliore che c'è Con i check del teletrasporto Ci sono check del teletrasporto sia sopra Cioè, sia sotto che sopra Così è meglio, regà Comunque, andiamo, andiamo Persuino ha leggermente emozionato della sua mega rampita, regà Allè La scena ce l'abbiamo con l'errode F1, meravigliosa Vediamo se gli altri si trollano, regà Ok Oh, oh, oh Sì Credo Sì, sì Tutto ok, tutto ok Perfetto Poi l'ho messo un po' di palle da bullying Dirigibili E un'altra barriera Come vedete ho messo il check qui Comunque Non lo usano tanto il check del teletrasporto Perché è leggermente più rognoso creare Cioè, mettere tutti questi check perché sono tantissimi Però guardate che bello Almeno non si può cittare Non succede nada di nada E qua, regà Stiamo andando da dio Ho messo questa dominator Perché non la mettono mai la B password dominator Mettono sempre quella normale di dominator Ma chi è il primero dei primeri? OSC Leonardo Guardalo Tutta sua la primera Perché Questa è la mia amica rampita Quindi Non si può vincere, regà Il creatore non può vincere A parte che mi ha regalato pure questo laser Adio, adio Primero Che è successo, Leo? Dove sei? Dove sei? Allora Ho messo il maggiolino Che poi nel video non vi ho detto nemmeno Che veicoli ho messo Allora Andiamo, andiamo Ordolo che mi ha superato Ok, ok È rimasto trollato E qui, regà Sono problemi Il maggiolino nel cordolino Come si comporta? Non lo so se sono andato fuori Non capisco Mamma mia, regà Siamo andati fuori, credo Sì Sì, sì Mi potevo salvare, eh Se andavo leggermente più veloce Allora, terza posizione Carino comunque questo triangolo Andiamo, andiamo Belli veloci Oh, Leo, Leo è stato, eh Mannaggia a lui, eh Oh, no Mannaggia lì, managgia lì Mannaggia No, regà Ve lo girai all'altra parte Però ho sbagliato Adesso chi è? Primero Gabri 95 bus Allora Ho accettato ieri Altare 200 richieste Regà L'amicizia E Se qualcuno Non riesce a inviarmi la richiesta Regà Riprovate Che si tratta di un errore Mamma mia Ci siamo Forse siamo andati fuori Forse no Forse esplodiamo Forse disgrazia Disgrazia, regà Ma Comunque è complicata L'amica rampa Cioè, più che altro Trolla Tutti sti cordoli Dai Allora Sgombro Guardalo che Dominator Che c'ha Che ruote so Quelle sue Quelle nuove stradali Belle, regà Sono Sembravano quasi le ruote Della truffata Nero Eh, biente tremolo Regà Non è la prima volta Che trolla Sto suino Trolloso Seconda posizione Eh, dà Regà L'emozione L'emozione del suino Allora Più concentrati A parte che Pure lei Sta rimanendo a lato Eh, sì, sì Ok, ok Andiamo, andiamo Allora Maggiolino Non mi deludere, eh Ah, regà Ho messo un veicolo Che non vi dico Alla fine Mamma mia Se trolla Aspettate No, 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 no No, no, no Su Dai, dai Riprenditi Riprenditi Non dico niente Dico niente Sono offeso Super, super Offeso, eh Messaggi Tre messaggi Scusa Tranquillo, Leo Dai, regà No, no, no Ce dobbiamo sbrigare, eh Dopo c'è la piccola Winky Guarda lo salta Che ce l'ha fatta Oddio, quanto troll Sì, ciao, regà Stavo di Alberto Tremolo Dai, regà Ma io non ce l'ho Io crede, eh Aspettate, eh Ok Ok, mo basta Mo ce lo faccio Non posso dire Mannaggia Il creator Della gara Mannaggia a me Stavolta Creata io Ok Scendiamo tranquilli No, Leo ce l'ha fatta Sì, sì Un colpetto di freno, regà Così andiamo super tranquilli No, ma non è difficile Perché abbiamo beccato traffico, regà Un po' di disgrazio È normale, è normale Per la mia carerita Un bel podio Va più che bene Allora, devo vedere altri messaggi Sono trollato Beh, stai a trollare Sui, no che sei trollato Eh Sui, mi saluti Se puoi domani invito in party Eh, regà I party non li posso fare Allora Come ti chiami? Emanuele Regà Leggo meglio i nomi Se hanno i numeri Non lo so Non lo so Non lo so Non mi chiedete Niente Perché qua siamo pure primeri Oh, regà Trolla, trolla Devo dire che ho fatto Una bella mega rampa Perché si può recuperare Dai, dai Veloce, veloce Veloce Leo ce l'ha fatta Dai, dai, dai Tanto l'ultimo veicolo È terribile, regà Mamma mia Allora Guarda chi c'è Sgombro Ok, piccola Winky Piccola Winky Dai che ce la puoi fare Quarta posizione Terza posizione Piccola Winky Perdonami Ok, no Non mi hai fatto niente Cioè Non mi hai fatto niente Winky Andiamo, regà Non so nemmeno Che questa dire Ok, ok Bravissima Winky Non ce la delude mai La piccola Winky E il maggiolino Mamma mia Che veicoli Allora Altre due messaggi Bella rampita Grazie, Leo Ma sei primo, Leo Secondo E la miseria Pure il tempo Rescrive Grande sui Grande sgombro Dai, dai, dai Sui, sta sali Col carellino aperto Ok Allo stretch Mi piace tanto Questo veicolo Salta e cascato Mi dispiace Salta Quindi è la seconda posizione La mia Sì, sì C'è qualche primero Ah, addirittura Aspettate No, no, no Pensavo che era il primero Invece no Oh, no Qua c'è un alto rischio Di esplodere O di rimanere super trollati Dai, regà Che disgrazio Veramente una disgrazia Che posizione Siamo Quarti Dai, dai, dai Eh, ce l'ha fatta Oh, che so Sti bug Regà Non lo so Non lo so Dai, dai Veloce Bello, veloce Sui Bello, rapido Che trolliamo Lì, Adamo No, perché Perché si è spostato Quante winky ci sono Ah, ma è una miniatura Mi devo sparare, regà Una mia mega rampita La miniatura ci vuole Regà, ma L'ho fatta bella trollosa Non dico niente All'inizio mi dovevo sparare Una bella miniatura Però non mi sono ricordato, regà Ero troppo emozionato Per la mia mega rampita Ah, ok Tutti trollati Solo Leo ce l'ha fatto Ok, ok Youtube ready Ok Andiamo Ok, ok Questo anche nel cordolo Non dovrebbe avere Problemi Oh, mio Dio 3,60 3,60 Sui Wow, wow, wow Un altro 3,60 Terra con stile Mamma mia, regà Perfetto, perfetto Salviamo pure la clip Olè, olè Allora Un minuto e venti Da Leonardo Quanti check Ho messo 30 E siamo al diciannovesimo Check, regà Nella prova Ci ho messo All'incirca Dieci minuti Però qua Con le collisioni, regà Secondo me Durerà un 13 minuti 13,14 Vediamo, vediamo La felon Ah, regà Ma non ce l'ho modificata Aspettate un attimo Ah, perché c'è La felon E la felon GT, vero? Eh, io c'ho la GT Bello, siamo esplosi insieme Ah, pure i primeri? Perché l'evo era rimasto trollato Regà, io c'ho La felon L'altro modello Che peccato Che peccato Ero convinto che c'avevo questa io Andiamo, andiamo Allora, dobbiamo fare attenzione Ovviamente fatemi sapere Se vi è piaciuta La mica rampita È semplice Però è molto Carina, dai Mi autocomplimento No, sto scherzando Era mica rampa Tranquillissima Allora Leo Ecco di qua Primera per noi Andiamo, andiamo Belli veloci Dopo che veicolo ho messo? Ci dovrebbe essere una Windsor Non mi ricordo come si chiama Perché Credo di sì Oppure la 500 Non vi spoilerò Non vi spoilerò l'ultimo veicolo Perché Lo dovete vedere Peggio del caddi Ve lo dico 500 500 Miniatura Miniatura Andiamo Messaggi Non ce ne sono Allora La 500 Devo dire che È ottima Nelle mega ramp Non è che ci delude Guardate Che 500 Favolosa Ma è meravigliosa Oh Oh In penna Ok Ok Alla primera Con la 500 Pure Leo Guardalo che boost Dove sta Leo? Ah ok ok E viva E allora adesso viene La Windsor blindata Credo di sì Non mi ricordo la pronuncia esatta Però mi ricordo Si Ma Windsor Una cosa del genere Ok Possiamo salvare pure la clip Abbiamo pure Un'altra miniatura qua L'ho messo il check Eccolo Comunque sono comodissimi Check Questi qua Del teletrasporto Sono i migliori Ah Motocicletta Ah no Regà Ho sbagliato No Regà Ci sono rimasto male Ok Ok No niente Niente veicolo trolloso Regà Ho sbagliato io Non c'è Non c'è il veicolo trolloso E qua non manco attacchiamo Glide Non credo Praticamente avevo messo La Streeter La moto a tre ruote Ma invece È il veicolo Della sala d'attesa Che ho messo Ero convinto Che rimaneva quella Invece no Però va bene così Va bene così Perché era super trollosa Regà Meno male che non c'è Andiamo Andiamo Perché giù ci dovrebbe essere La del AXO Miniglide No niente Niente Sta rimane trollato Credo che ce l'ha fatta Leo Perché con la moto è facilissimo Sì sì Comunque tutta sua La primera Allora Facciamo attenzione Ok Ok Non riesco a attaccare Un miniglide No Ma meglio così Meglio così Regà Abbiamo miniglide Piccolo piccolo Minuscolo Ah no Aspettate 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 Sì Glida 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 Se no saltiamo Il check Ok Prendiamo la del AXO Eccoci qua E il traguardo L'ho messo sopra La mates bank Fatemi sapere di nuovo Se vi è piaciuta Complimenti Devo esserci Leonardo Leo devi concludere te Perché questa è la mia Mega rampita Vai Leo Vai a conclude Oh Leo No Leo Vai a conclude Pensavo che avevi concluso Concludi Ce l'ha fatta Sì sì Andiamo Andiamo Comunque sia Se vi è piaciuta La mia Mega rampita Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale E noi ci becchiamo Al prossimo video Bello Ciao